www.differenziatateramo.it è il nuovo sito sulla raccolta differenziata della Teramo Ambiente, implementato con nuove funzionalità, anche quella di poter simulare la propria fattura per prevedere l'importo da pagare sulle proprie bollette tari, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. A breve inoltre uscirà anche il restyling dell'app per cellulari. Il sito offre un dettagliato dizionario dei rifiuti per conoscere dove e come va smaltito in un singolo rifiuto. Intanto sul saldo per il 2020 in arrivo a maggio nelle case dei Teramani a calcoli fatti rispetto a quello del 2019 conterrà una riduzione del 12,74%. È un adeguamento anche in termini di trasparenza a quanto previsto dalla delibera Rera 444 del 2019 e che permette appunto ai cittadini di essere in grado di calcolare la propria tariffa sulla base dei metri quadri e dei componenti del nucleo familiare. C'è anche una voce legata alla scontistica. Penso ad esempio a tutte quelle persone che hanno aderito al nuovo sistema integrativo di gestione dei rifiuti delle eco-isole o piuttosto a chi possiede la compostiera. Sempre sul sito di differenziata Teramo ci sarà la voce legata alle utenze domestiche, alla Tari e quindi poi alle utenze domestiche attraverso la quale si potrà simulare tranquillamente la propria bollettazione. Ma ci saranno anche degli esempi all'interno del sito per poter capire le singole voci previste all'interno delle bollette. Non sono solo queste le novità, c'è anche il dizionario dei rifiuti che può aiutare i cittadini a capire e a comprendere meglio dove conferire i materiali di scarto e tante altre importanti novità. Chiaramente anche le news legate ai rifiuti covid per cercare anche lì di venire incontro alle esigenze purtroppo di questo periodo.